Attenzione spoilerone per Serato DJ Pro che con la 3.1 che attualmente in beta manderà gli stems ad altre macchine tra cui i CDJ 3000 Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Cloda attualmente c'è la 3.0 per quel che riguarda Serato DJ Pro ma con la versione 3.1.0 che attualmente è in beta ma che gli utenti iscritti possono scaricare Gli stessi utenti di Serato DJ Pro che utilizzano accessori Serato ufficiali per DJ il caso eclatante sono i lettori CDJ 3000 possono ora controllare gli stems dentro Serato dai propri lettori quindi dalla propria attrezzatura grazie a una nuova funzionalità aggiunta alla versione beta pubblica di Serato DJ Pro 3.1 Quindi Serato sta aggiornando il suo software di punta alla versione 3.1 aggiungendo correzioni bug espandendo la modalità stems performance pad che consente come ben saprete di isolare le parti come voce batteria basso da una traccia già mixata utilizzando i pad sui vari controller Serato ufficiali In precedenza era possibile sostituire solo una modalità pad inutilizzata con stem sul controller dedicato come la DJ FLX4 o la Rain One Mentre con Serato DJ Pro 3.1 beta adesso potremo accedere alla modalità stems performance pad tramite più diffusi controller per serato che adesso vi diremo tutte in elenco significa che potrai avere controller dedicato per gli stem mentre usi la modalità tradizionale HID quindi dei controller dedicati proprio per il tuo software e per far funzionare tutto ciò bisogna andare nelle preferenze di Serato DJ Pro e troverete queste voci replace primary hardware pad mode with stems e replace accessory hardware quello che dovrete fare è andare a flaggare questa voce e quindi direte a Serato di andare a rimuovere gli hot cue e sostituirli con gli stems attenzione perché qui c'è già il primo problema che nasce e questo ne parliamo dopo esattamente così replace accessory hardware pad mode with stems che cosa potrà accadere nel caso dei CDJ 3000 con i performance pad che vedete qua in questo caso colorati diversamente vedrete i primi quattro colorati più in blu rispetto a un blu più chiaro degli altri quattro perché i primi quattro diventeranno automaticamente il controllo dei vostri stems e cioè quelli che vedete qua vocal melody bass e drums sul vostro controller serato in questo caso si potrà controllare tutto dai pad dei CDJ 3000 e dai controller dedicati come fare per scaricare tutto vi metterò il link in descrizione se sei un utente serato per ottenere la beta quindi già la 3.1 prima che esca tutto quello che devi fare è accedere al sito serato con le tue credenziali quindi avere un account di serato e andare alla pagina del forum che ti metterò qua nelle descrizioni come sempre ma come vi dicevo prima quando andremo a fare questo replace andremo a perdere gli hot queue inserendo gli stems andiamo a perdere gli hot queue che è un grosso problema per noi e sicuramente per la maggior parte degli utenti di serato al momento questa è una mappatura che va ad escludere gli hot queue ma quello che diciamo noi sarebbe meglio che facessero una sorta di split in cui magari si può fare i primi 4 stem per comandare serato e gli altri 4 per gli hot queue della nostra traccia quindi andare a sacrificare i primi 4 o i secondi 4 in base a come uno può scegliere semplicemente con un pulsante ma questo glielo stiamo suggerendo noi non è detto che lo inseriscano al momento o avete gli stems o avrete gli hot queue questa è una vostra scelta ma credo che a breve nonostante questa beta verranno fuori una situazione dove si avrà hot queue e stems magari non nella modalità come ho detto io ma spero in una cosa simile nel complesso serato rende disponibile gli stems a tutti gli utenti hardware quindi se il tuo hardware è compatibile lo puoi già provare quali sono gli hardware compatibili quindi Akai Pro AFX Denon DJ SC 5000 Prime Denon DJ SC 5000 M Prime SC 6000 Prime SC 6000 M Prime e l'ultimo di Denon Denon DJ LC 6000 Prime per quel che riguarda ReLoop ReLoop Neon ReLoop RP8000 ReLoop RP8000 MK2 e poi Rain 12 e Rain 12 MK2 lo so state aspettando Pioneer Pioneer DJ DDJ SP1 Pioneer DJ DDJ XP2 i CDJ 3000 che abbiamo fatto vedere i CDJ 2000 Nexus 2 CDJ 2000 Nexus e CDJ 2000 c'è una postilla da notare per quel che riguarda il DDJ XP2 che non è possibile collegare questo controller e commutarlo sugli stem in un impianto CDJ serato senza che anche i suoi hot cue passino sugli stems questi devono poter essere separati chiaramente perché altrimenti è un guaio ricordiamo che la separazione degli stem è arrivata per la prima volta nel software DJ tramite Virtual DJ 2020 è cresciuta fino a diventare una parte fondamentale dei nuovi aggiornamenti così come con Rekordbox DJ Pro Algorithm ancora prima e serato permette a chiunque di creare a cappella sbrani strumentali da tracce stereo completamente mixate anche se gli stems ufficiali non sono disponibili e come ben saprete un bel punto di svolta per i DJ per poter fare mashup al volo e avere vocal o strumentali sempre a disposizione con la qualità chiaramente in base al software che andremo ad usare ma quella di serato diciamo che dopo quella di Virtual DJ Stem 2.0 è la migliore fatemi sapere la vostra opinione come sempre qui sotto nei commenti della nostra community corsi per DJ, corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact compilando il form oppure tramite le nostre pagine social per chi sono indicati i corsi per chi inizia da zero per chi è già bravo e vuole migliorarsi ma anche per chi vuole fare il salto definitivo di categoria verso il professionismo così come le consulenze consulenze private personalizzate su tutti i vostri problemi hardware, software tutte le tematiche trattate sul canale compreso quelle legali oltre al nostro Facebook e Instagram c'è anche TikTok vai, follow us, seguici c'è anche la nostra community Telegram se vuoi farne parte è tutto gratis il canale YouTube iscriviti, iscriviti, iscriviti è importantissimo per noi abbiamo anche visto che tantissimi guardano i video ma la maggior parte quindi il 75% non sono iscritti quindi serve che vi iscriviate a voi non costa niente per noi è un grosso attestato di stima potete anche abbonarvi vai a vedere il video con la corsia preferenziale che creiamo tantissimi video tutti in stile DJ e produzione musicale parliamo solamente di questo argomento e ci concentriamo 24 ore per la settimana sempre su di voi per darvi notizie fresche tutorial, spoiler quello che vi serve ed è per questo che dovete iscrivervi ed essere sempre aggiornati tutto diviso in playlist c'è anche il nostro official merchandising linea Anyway vai, guardati tutto SOS4DJ iPlayboy da like suono solo quello che mi piace quindi tenetevi informati sempre su ciò che accade su questo canale attivando la campanella e sarete sempre informati sui nuovi tutorial nuove recensioni nuove spoiler novità e anche dirette quando ci sono ma puoi mettere un mi piace anche se vuoi e condividere con i tuoi amici se pensi che tutto questo possa essere loro utile ci vuoi aiutare? lo puoi fare tramite il tasto qua Paypal oppure tramite il super grazie qui sotto buona apertura per quel che riguarda la beta questo spoilerone di serato 3.1 che arriverà a breve ma gli utenti possono già andare a scaricarlo e testarlo sui propri CDJ3000 o sulle altre macchine che vi ho elencato e che vi metterò tutto in descrizione fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti da parte di SOS4DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una meravigliosa giornata ricordandovi l'iscrizione al canale che per noi è fondamentale per poter crescere e darvi sempre tutto questo a gratis ricordandovi che la vostra soddisfazione pom grazie a tutti